Ho voluto fare un test, sai di quei test dell'età? Ecco, l'ho fatto con Federico. Come potresti essere a 70 anni, Federico? Sembro Ted Danson. È carino, carino. Ho provato anche a farlo con me stesso. Come potrei essere a 70 anni? Ecco qua, potrei essere così. Questa sciampetta che... Ho provato a farlo anche con Davide Pagnate. Come potrebbe essere, secondo voi, Davide Pagnate a 70 anni? Ottimista! Ah, cazzo! È una merda!